Siamo nel Palazzo del Gattopardo, siamo a Palazzo Ducale del Gattopardo, nelle sale proprio all'inizio, in questo straordinario palazzo a Palma di Montechiaro e sono con il dottor Stefano Dall'Acqua, curatore e figlio, uno dei due figli, del maestro Dall'Acqua e qui abbiamo portato le sue opere. Veramente c'è stata alla fila delle persone che si sono complimentate perché la sua mostra, visitabile fino al 10 ottobre, è Nobiltà, perché la nobiltà è una categoria dell'anima. Cosa possiamo dire, dottore? Possiamo dire che abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria in un posto bellissimo dove la nobiltà è di casa e dove abbiamo portato la nobiltà degli umili su consiglio del professor Gianmarco Puntelli. La mostra rimarrà aperta, noi ci auguriamo fino al 10 ottobre, e noi ci auguriamo che tante persone vengano e possano valutare bene quelli che sono i sentimenti che le opere trasmettano. Assolutamente sì, questa è la cover, si parla dei pastori e noi vi aspettiamo qui perché è una mostra che deve essere vista, perché la nobiltà parte dall'anima, parte dall'anima soprattutto qui dove si parla di gatto pardo, dove tutto cambia e dove bisogna cambiare.